In Italy e in Italia abbiamo una marcia in più, però dobbiamo stringere i denti perché è un periodo molto difficile, però siamo bravi, quindi arriva sempre il Made in Italy. La moda è importante, è importante nella mia vita, ma penso un po' per tutte le donne, nel senso che comunque è molto bello anche seguirla. A me piace tanto, mi documento, poi sono una manata di shopping, quindi appena posso comunque mi piace molto comprare anche le situazioni nuove, delle cose diverse. Sono una che ama i colori, anche d'inverno, infatti come puoi vedere è un abitino giallo, un po' pua, per cui dipende, la moda è molto importante per me. Il 2014 spero di stare bene, me, tutta la mia famiglia e il salute. Spero che arrivino tante cose belle, tante soddisfazioni come è stato questo 2013 e spero che tutte le persone che non stiano bene, che possano stare bene. Moda Ice TV, un bacio, ciao! Moda Ice TV, un bacio, ciao! Grazie per la visione!